In questi mesi nulla è cambiato se non in negativo rispetto agli aumenti che già c'erano stati nel 2021 e che avevano trovato all'inizio del 2022 il primo picco in aumento. Il prezzo dell'energia elettrica e del gas ha continuato ad aumentare, continua ad aumentare. A luglio abbiamo avuto veramente il picco più elevato, ma non è finita perché già i dati della borsa olandese dimostrano che il gas continua ad aumentare il prezzo. Purtroppo non è stato fatto nulla perché al di là delle chiacchiere dei 50 miliardi messi dal governo per cercare di andare in conto alle esigenze delle famiglie e delle imprese, la maggior parte di queste risorse sono andate alle grandi aziende energivore e gasivore con il credito d'imposta che in qualche modo ha salvato alcune delle grandi aziende. Poco nulla è arrivato nelle tasche delle famiglie, nulla è arrivato nelle tasche delle piccole imprese e soprattutto non sono stati affrontati i veri nodi del problema. Com'è pensabile che in Italia anche l'energia prodotta da fonti alternative e rinnovabili venga pagata come se prodotta dal gas? Quindi legare il prezzo dell'energia elettrica al prezzo del gas è una follia solo italiana che non riusciamo a far capire al governo dei migliori che speriamo che in questi ultimi giorni di vita possa mettere in campo un decreto aiuti che prevede il credito d'imposta per tutte le imprese, anche per le piccole imprese e non solamente per le grandi aziende e che venga eliminata questa stortura di legare il prezzo dell'energia elettrica al gas, anche perché diversamente non se ne esce. La forte preoccupazione è che tante aziende dovranno chiudere, perché quando un piccolo ristorante si trova a dover pagare 11 mila euro di bolletta dell'energia elettrica nel mese di luglio, io non credo che abbia tante altre possibilità se non chiudere i congelatori, chiudere i frigoriferi e chiudere la baracca perché non è pensabile. Anche il turismo che quest'anno ha dato risultati positivi in termini di presenze e quando andremo a fare i conti albergo per albergo con gli aumenti che ci sono stati, che poi non sono solo quelli dell'energia elettrica, ma tutti i prodotti sono aumentati, per cui anche il dato delle presenze turistiche non so se riuscirà a pareggiare quello che è l'incremento dei costi delle singole imprese. Ecco, l'estate è positiva per il turismo e la ristorazione, ma l'autunno con alberghi che potrebbero circoscrivere le aperture ai momenti clou e ristoranti che potrebbero circoscriverle ai weekend potrebbe essere davvero uno scenario verosimile? Sì, certo che ci sono delle difficoltà anche per fare queste cose che molti hanno preannunciato. Penso a un ristorante che ha le celle frigorifere, non è che le può accendere e spegnere quando gli pare, anche perché ha del materiale. Quindi è un'iniziativa questa che sicuramente molti vorranno attuare, quella di aprire meno giorni alla settimana, ma non so quanto potranno risparmiare in termini di costi. Quindi la preoccupazione per un autunno che si preannuncia molto difficile per le imprese, tutte le imprese in generale, le imprese del turismo, per un albergo magari è più facile, io chiudo l'albergo e quindi non ho più i costi della luce, della luce dell'ascensore eccetera, per un ristorante è veramente molto difficile.